Via, allora fermi, non vi muovete, ora! Non ci muoviamo! Infatti non ci muoviamo, ma siamo qui per dirvi una cosa, che dal 10 al 15 aprile saremo presenti al Teatro San Babilia di Milano, io Stefano Masciarelli con Luigi Tani e Patrizia Pellegrino con una moglie da rubare di Iaia Fiastri regia di Diego Ruiz, mi raccomando, non mancate a questo appuntamento perché vi divertirete, vero? E infatti, una moglie da rubare, aspettiamo solo voi per farvi vedere il tutto, perché Milano è un gran Milano. No, 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 no!